Cronaca, ancora una morte bianca in Abruzzo. Un uomo di 73 anni ha perso la vita in località di Rota Cesta, di Loreto a Prutino, mentre stava lavorando su un terreno agricolo. Secondo le prime informazioni, l'anziano si è ribaltato con il trattore ed è finito schiacciato sotto il mezzo ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il 118, vigili del fuoco, carabinieri della locale stazione che stanno ricostruendo quanto è accaduto. Tutti gli aggiornamenti li trovate sul sito reteotto.it.